Le emozioni di questa campagna elettorale sono state tante, tutte bellissime, emozioni nuove perché siamo andati in un gruppo di amici e quindi persone che ci siamo sentiti tra di noi di condividere un percorso di realtà e quindi per noi una bellissima esperienza, un'esperienza stancante ma soddisfacente. Per quanto riguarda i risultati stiamo attendendo, stiamo adesso aspettando che dalle sezioni arrivano i vari numeri per poter capire il nostro successo, quantificarlo perché per noi come vada vada il successo è garantito.